Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video di Tennis Taste. Oggi abbiamo una recensione un po' più particolare perché parliamo di una racchetta Fabrizi non solo, ma perché parliamo sostanzialmente della mia racchetta. Infatti FF20 è la mia scelta stabile. L'alterno molto spesso con un'altra coppia di Blade 98 1619 V8 che adoro, ma questa è la racchetta che come molti di voi sapranno ho disegnato insieme all'ingegnere Fabrizi e che ho disegnato proprio secondo quello che volevo in una racchetta da tennis. Per cui è proprio la mia racchetta. E infatti abbiamo qui due racchette, e non una perché sono le mie due personali e anzi una la salutiamo, salutiamo la seconda, la prima non so quale sia, l'alterno quindi la posiamo e andiamo a parlare di esattamente com'è fatta e come va questa FF20. Com'è fatta allora questa piccolina, anzi neanche troppo piccolina in realtà perché è una racchetta piuttosto seria ma diciamo una scala tecnica che fa capire che non è una racchetta impossibile. Questo perché? Perché nasce dal concetto diciamo delle varie PT57 e H19 come vogliamo chiamare, insomma quindi un concetto onestamente pro stock. D'altronde Fabrizi realizza telai pro stock con una qualità stellare chiaramente e lo ricordo tutto made in Italy. Anzi per chi volesse vedere come viene realizzata una racchetta Fabrizi lascio qui il link al video insomma che abbiamo realizzato qualche mese fa e potete vedere con i vostri occhi come viene realizzato un telaio Fabrizi in maniera artigianale, handmade in Italy, anzi per la precisione in Firenze. La scheda tecnica abbiamo detto parte da un dato fondamentale per un telaio del genere perché parliamo di un telaio che ha un piatto 100 e quindi sul genere PT57 e H19 proporre un piatto 100 è comunque qualcosa che vada ad aiutare maggiormente l'utenza ma non solo perché abbiamo un profilo da 20.6 mm, straight beam boxed quindi uguale dall'inizio alla fine quindi sempre 20.6 mm e boxed su tutto quanto il telaio. Abbiamo uno schema corde 16-19 e abbiamo un bilanciamento da 31.5 cm. Il tutto sviluppa un'inerzia che è un po' più bassa per mia richiesta rispetto alle normali racchette Fabrizi. Infatti FF99 intonne 300-303 a nudo, FF22 addirittura sui 310 a nudo, qui siamo invece a 295 a nudo, il che significa che è una racchetta che concede comunque un buon grado anche di customizzazione dopo l'utilizzo. Tuttavia vi ricordo che è possibile in richiesta quando vengono ordinate chiedere più o meno 5 grammi e più o meno 5 mm di bilanciamento, poi la racchetta sarà fatta precisamente come vorrete. In realtà si può anche chiedere il livello di inerzia, questo è un servizio che Fabrizi Tennis comunque realizza e mette a disposizione e quindi la racchetta arriva proprio tailored, come la chiedete, fatta su misura, questo è il concetto. Però al di là di tutto questa racchetta nasce per come è concepita, 305 grammi e con il bilanciamento 31.5 e questa inerzia a 295 punti, che non è invalidante, è comunque un inerzia che è gestibile da una buona parte di tennisti. Quindi una Pro Stock sì, ma non difficilissima da adoperare. Questo era un po' il concetto che volevo sviluppare con questo telaio e io penso di esserci riuscito, insomma, anche perché il livello di gradimento rispetto a questa racchetta tra tutte le proposte Fabrizi è indubbiamente molto molto alto, proprio perché è una racchetta sì seria ma giocabile tutti i giorni e questo è un vantaggio enorme, cioè portare in campo una racchetta che è molto gradevole in campo dal punto di vista del feeling, del controllo da ogni punto di vista, ma che non è davvero difficile, è una cosa secondo me che un appassionato che ha un discreto braccio deve comunque valutare, perché giocare tutti i giorni con una racchetta molto pesante non è possibile per chi si allena in maniera abbastanza continua e magari fa anche altri sport, mentre un telaio che ti lascia il braccio un po' più libero rispetto al solito è comunque qualcosa che ti lascia margine, appunto, per giocare più spesso e meglio senza subire il peso, l'inerzia, insomma, la pesantezza generale del telaio. Tra l'altro vi faccio vedere, mi sposto, lascio lei in primo piano, potete vedere su una superficie chiara quanto è larga la ganascia centrale, quindi è davvero una racchetta molto tollerante e vi assicuro che rispetto ai soliti straight beam, rispetto ai soliti boxset beam da 97, 95, 98 pollici, è decisamente più tollerante e questo la rende molto fresca, la rende molto utilizzabile, amichevole, non è una racchetta che spaventa, anzi l'ho fatta provare a tante persone e quello che mi viene come feedback è che è incredibilmente più facile di quel che si pensi. Quindi, credo che questa sia probabilmente la più interessante della proposta Fabrizi, non a caso è la mia scelta e quindi rappresenta, come dire, un'opzione seria, tecnica, ma non invalidante, che ti tiene comunque sull'attenti dal punto di vista tecnico sicuramente, ma che non ti distrugge fisicamente per reggerla e non ti distrugge tecnicamente per adoperarla. Non solo, questa è una racchetta che io avevo in mente da tanto tempo e ringrazio l'ingegnere Fabrizi per avermela fatta realizzare, insomma, e per essersi fidato ancora una volta di un progetto e anzi, nella gamma Fabrizi, laddove vedete la doppia F, quindi FF, quindi abbiamo FF99, FF20, FF22, è una co-ideazione tra me e lui, quindi tra me e l'ingegnere Fabrizi, quindi siamo messi lì a vedere varie soluzioni e abbiamo trovato, diciamo, per il momento tre telai, ma ne arriveranno altri, soprattutto questa stessa racchetta sarà riproposta in versione 18-20, perché questa racchetta doveva nascere in 18-20, era la mia prima idea, quindi piatto 100, schema 18-20, per proporre un controllo, diciamo, da 95-16-19 riproposto in un piatto 100 con schema 18-20, questa era l'idea iniziale. Poi un giorno l'ingegnere Fabrizi richiama a me e mi dice, guarda, c'è una richiesta da parte di un giocatore ATP che vorrebbe provare un nostro telaio, per cui da lì la richiesta era esattamente quella, un piatto 100, un profilo sottile, uno straight beam, un box beam, per cui c'eravamo, era preciso, ma alla fine della richiesta c'era il 16-19 e non il 18-20, per questo motivo FF20 è nata poi con il 16-19 nella sua prima versione, però, ripeto, a breve arriverà anche la 18-20, tuttavia, devo dire che questa scelta del 16-19 è stata comunque molto duttile, perché la racchetta si è semplificata rispetto, diciamo, all'idea che avevo io e per questo motivo l'ho anche, diciamo, adoperata poi come racchetta stabile. Questa quindi sarà una recensione particolare, perché una racchetta che ho definito sostanzialmente sulle mie richieste precise per me ha pochissimi difetti, per cui prendiamola come un'esperienza d'uso, prendiamola come vi racconto la mia racchetta, ecco, questo è il concetto di questo video, quindi un po' diverso dal resto delle recensioni e vi darò rispetto anche alla recensione che trovate sul blog e anzi qui vi metto il link alla recensione scritta, dove sapete che cerco di essere al massimo impersonale, quindi al massimo di dare delle indicazioni precise per tutta l'utenza, in questo caso invece, visto che la recensione è già c'è, vi dirò cosa ne penso io personalmente di questa racchetta e perché mi convince. Primo punto, l'abbiamo già detto, è il piatto 100. Questo piattone largo è quello che cerco, solitamente a me piacciono i piatti raccolti verso l'alto, quindi non mi piace il piatto molto lungo. Trovo che il telaio un po' più corto dia una maggiore sensazione, anche perché solitamente io impatto nella zona medio alta e quindi ritrovo una maggiore sensazione nei telai che comunque hanno un piatto più corto e mi restituiscono un feedback più vero in questa maniera. E anche una racchetta, abbiamo detto, molto larga. Il mio faccione, come vedete, è abbastanza più piccolo di questa ganascia centrale, quindi tollera molto dal punto di vista laterale, quindi lo sweet spot è abbastanza ampio, copre una bella zona, ma per questo motivo riesco ad impattare con molta tranquillità. Ma non solo. Questo elemento della larghezza del piatto va a costituire un'altra cosa, cioè una stabilità che normalmente i telai di questo peso, questo bilanciamento e questa tipologia, diciamo, di profilo non hanno, perché più è largo il piatto più si avrà chiaramente una stabilità a parità di peso ed altre condizioni. Una cosa che non abbiamo detto è che questa racchetta nasce con rigidità 60. 60, ma 60 che cosa significa? Ben poco, perché il traio è sì molto flessibile, quindi tende a piegarsi sotto i colpi, ma poi ha un ritorno energico, perché nei cinque layer principali di questa racchetta, e ricordiamo, racchette Fabrizi hanno cinque layer, chi le vuole chiamare pelli, chi le vuole chiamare strati, hanno cinque strati praticamente. Lo strato centrale è composto di carbonio unidirezionale, cioè uno strato di carbonio che non è intrecciato, non è un braided, è dritto, ha le sue fibre che vanno in maniera parallela all'andamento del telaio. Questo che significa? Che è uno strato un po' più riattivo che aiuta il telaio nel ritorno in avanti, e questa è la tecnologia che utilizza Fabrizi nelle sue racchette. Ma laddove nella FF22 c'è davvero tanta massa, che quindi la palla te la spinge sempre, nella 99 c'è comunque una maggiore reattività e il cuore più spesso, qui invece serviva un aiuto maggiore. E questo layer di carbonio messo a zero, cioè messo in maniera praticamente parallela all'asse della racchetta, costituisce un elemento fondamentale perché la racchetta dà piegata, ritorni poi in avanti in maniera energica. E lo fa. Lo fa, sicuramente è una racchetta non potente quanto la FF22, non gratuitamente potente quanto la 99, ma è una racchetta sicuramente nettamente più controllabile, è una racchetta che comunque ti dà il pieno controllo sull'attrezzo perché qui hai delle proporzioni che riesci comunque a mantenere, le riesci a gestire, non ti stanca, non ti impaccia, è una racchetta che va comunque abbastanza veloce in aria, per questo motivo tu la gestisci sempre, hai la sensazione che comunque la stai tenendo sempre bene e questo è il motivo che me l'ha portata soprattutto a sceglierla. Poi, nelle varie insomma condizioni abbiamo aggiornato diverse cose e abbiamo trovato anche una buona capacità di spin, sicuramente non uno spin elevatissimo perché comunque ci sono racchette che alzano i colpi in maniera più cattiva, ecco ad esempio FF99 ha sicuramente uno spin nettamente più arcuato, ma qui hai uno spin che comunque è un filo più disteso, non è sicuramente un heavy spin ma è molto immediato, quindi nel momento in cui carezzi la palla, la palla sale e va a ricercare diciamo quello che gli hai dato. Non è una racchetta che comunque è leggera in assoluto, ha sempre 295 punti di inerzia a nudo che nel panorama attuale sono anche difficili da trovare, sarebbero in pratica più o meno quelli diciamo di una Blade 98-16-19 a piene specifiche, con la differenza però di un bilanciamento a 31,5 quindi comunque un po' più piena, ma tenuta a bada dal bilanciamento un po' più arretrato a 31,5. Sono racchette sicuramente diverse, qualcuno mi chiederà ma come fai ad alternare queste due? Beh, c'erano dei giorni in cui preferisco la maggiore reattività della Blade che è sempre una signora racchetta e tra le commerciali secondo me è una delle più invitanti, indubbiamente, ce ne sono tante, è vero, ma Blade comunque ha sempre il suo fascino e per questo motivo una coppia di Blade nel mio borsone ci deve sempre essere. Ma qui abbiamo un concetto che va più verso l'old style, più verso le vere Prestige, più verso le H19, quindi un telaio un po' più gustoso dal punto di vista del feeling, più controllato dal punto di vista dello swing, più controllato in generale. Ecco, quindi è una racchetta che ti impone un certo gioco e che ti impone un certo ritmo comunque sulla palla, non altissimo perché comunque il piattone e il suo lo fa e lo schema 16-19 non è così chiuso, diciamo, da punirti tutte le volte che vai magari a sbagliare qualcosina. Però comunque è una racchetta che dal fondo sa spingere, sa spingere bene, se dai uno swing comunque concreto, la palla la piazzi comunque in maniera distante. Certo, per darle la vera potenza la devi portare a regime medio alto, quindi un regime comunque sostanzioso. Lei risponde sostanziosa ma vuole comunque un full swing. Lo strappo non le appartiene, non è suo, sì, ogni tanto te lo fa fare, però non è la sua natura. Ecco, è una racchetta che comunque nasce con un'indole classica, nasce con un'indole comunque con un colpo più disteso, non piatto, non per forza piatto, sicuramente il colpo piatto gioca meglio, ma non è la racchetta esclusivamente da colpo disteso. È una racchetta che pretende che tu le dia qualcosa, sia in spin, sia sul colpo piatto, ma sul colpo piatto sicuramente sa offrire di più e sul colpo piatto dimostra comunque la sua potenza. Un buon livello di potenza, sicuramente reattiva, è una racchetta che comunque anche con un full swing, diciamo, fluido ti fa piazzare la palla in maniera sostanziosa, non è sicuramente una racchetta diciamo da palla leggera, non ti delude dal punto di vista, diciamo, della spinta, anche perché, lo ricordiamo, è una racchetta che per quanto sia a livello più basso di inerzia proposto tra le FF è comunque una racchetta da 295 punti senza corde, alle quali appunto vanno aggiunti dai 25 ai 30 punti a seconda delle corde, insomma, che si vanno a montare, quindi non propriamente è un fuscello, ma comunque gestibile, ecco, in quella fascia che va tra i 320 e i 325 punti di inerzia a telaio incordato, giusta per chi vuole giocare di braccio, ecco perché, mi piace molto questa FF20, perché ti lascia giocare con il braccio, perché te lo fa fare con un piattone, con un buon topspin e un ottimo back, perché il back qui è una favola, il telaio si piega, si sente, si butta avanti, si lavora, c'è sidespin, si lavora bene, comunque è una racchetta molto completa dal punto di vista tecnico, che richiede, ma che offre, ecco. Insomma, la sua potenza ce l'ha, ecco, non è una racchetta assolutamente ferma, non bisogna considerare FF20 una racchetta low-powered, non è il classico telaio 320 bilanciato a 31, fermo in potenza che le devi dare tutto il braccio perché la palla vada di là in maniera decente, è una racchetta che comunque anche con il gioco fluido paga davvero tanto. È chiaro, è richiesto un livello tecnico sicuramente non basso, è una racchetta che, ve la faccio vedere ancora, dal primo sguardo ti fa capire che è seria, che è comunque rigorosa in alcuni suoi aspetti e quindi non le si può dare sicuramente poco in campo. Andando verso la rete si scopre comunque una racchetta che il tocco se lo porta da casa, è un tocco comunque molto morbido, davvero molto soft su tutti i colpi, sia sul colpo piatto, meglio sul colpo piatto che con il colpo in taglio perché sul colpo in taglio tende un pochettino ad accorciare, però è la misura giusta per andare ad affondare le volee. Quando vuoi giocare una volee più pesante ci vai con il taglio e quindi sai che lei ti darà tanto controllo e non sparerà via la palla, questo è sicuramente uno degli aspetti che mi è molto piaciuto, quindi a rete a me piace caricare un po' più la volee con il taglio e lei li te lo fa fare perché ti dà molto molto controllo e anzi anche sui tocchi, sui tocchi si mostra comunque piuttosto gradevole, sui tocchi comunque mette la sua sensibilità altissima, qui parliamo di una sensibilità molto alta e quindi si tocca davvero molto concretamente. Il tutto è completato da un servizio che comunque è molto solido, c'è una prima palla da spingere indubbiamente, una prima palla che però già dal regime medio alto ti dà una corposità quindi anche piazzata, una palla che scorre via e ti consente comunque anche un buon ritmo perché non ti incastra diciamo a ricercare la palla su un piccolo punto diciamo di impatto ideale ma riesci comunque a servire in una maniera non dico più raffazzonata ma anche un filo meno precisa rispetto diciamo alle solite 95, 97, 98 diciamo di questa categoria, lei si mette a disposizione comunque con questo piatto che comunque va a tollerare sempre qualcosa in più. Lo slice come il back è un grandissimo colpo e si gioca davvero davvero molto 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 bene. Non è particolarmente arcuato quindi non troverai quindi l'uscita monster slice però è piuttosto curvo, si riesce a gestire la curva, è molto rigorosa anche da questo punto di vista. Soprattutto lo slice è molto preciso. Sul kick viene fuori un po' lo stesso discorso fatto sul topspin. Non c'è un monster kick di base però lo strappo saltuario te lo fa fare. Sicuramente sul kick darle il kick pesante non è poco faticoso ma non perché il taglio sia difficile da adoperare ma perché la devi forzare sempre un po' quindi dipende molto da te. Se la sai forzare, se riesci a forzarla in maniera diciamo continua allora avrai un buon kick. Ripeto dal punto di vista fisico non è una racchetta molto demanding per cui se c'è un po' di tecnica e un po' di gamba il kick comunque viene fuori ed è un kick che comunque soddisfa. Ripeto secondo me è più da giocare saltuariamente ecco non è un kick che ti viene voglia di giocarlo sempre, ti viene voglia di sfruttare lo slice e il colpo piatto che non il kick perché due tre kick consecutivi comunque richiesti ad un ritmo molto alto. Poi ti fanno venir meno un poco di gamba. Bene ragazzi abbiamo parlato di FF20 quindi la mia racchetta, la mia racchetta personale si è accompagnata anche da altri ma ripeto è un mio telaio stabile quindi la adoro. È una racchetta che ha la sua richiesta tecnica ma non è davvero troppo severa. È una racchetta che swinga davvero molto facilmente in aria, è una racchetta che si richiede un livello diciamo tecnico discreto ma almeno discreto anzi ma comunque sa ripagare con un feeling pazzesco e soprattutto con una prestazione che comunque mette a disposizione del braccio tante opzioni senza richiedere troppo e senza essere davvero difficile ecco comunque è una racchetta che ha la sua potenza, ha un bel controllo, ha un ottimo feeling, ha discrete rotazioni in top, un ottimo back, un bel servizio, molto completa. È perfetta? No, neanche per idea. La perfezione nelle racchette non esiste e il fatto che sia la mia racchetta non significa che sia la tua racchetta. Non prendere questa recensione come uno spot perché non lo è, io dico sempre scegli la racchetta in base alla tua coscienza e soprattutto in base al tuo portafoglio. È una racchetta molto costosa perché ha la sua qualità altissima, handmade, in Italy ma non significa che sia la racchetta perfetta per tutti. Tuttavia per chi cerca qualcosa sullo stile H19, PT57 ma più giocabile quindi che non sia un piatto molto piccolo e soprattutto eccessivamente pesante o da customizzare necessariamente per farlo rendere al meglio questa è una racchetta che comunque sa dare davvero tanto in tal senso. Ragazzi io vi saluto, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche ma soprattutto di lasciare un like se ti va che è sempre molto gradito e aiuterà comunque a diffondere il mio canale. Ciao ragazzi, alla prossima!